Doppia operazione dei carabinieri sul territorio di Eboli. A Santa Cecilia i militari guidati dal capitano Luca Geminale hanno individuato e perquisito l'abitazione in cui viveva un 55enne di nazionalità marocchina che aveva adibito la propria dimora a supermercato abusivo. All'interno della casa infatti gli inquirenti hanno rinvenuto una grossa quantità di merce ed alimenti in cattivo stato di conservazione per un valore complessivo di circa 50 mila euro. La merce è stata sottoposta a sequestro ed il proprietario denunciato per esercizio abusivo di attività commerciali, omesse comunicazione all'autorità amministrativa e vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Successivamente i carabinieri hanno individuato in un capannone abbandonato e poco distante un 35enne marocchino già noto alle forze dell'ordine mentre era intento a tagliare e confezionare dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Immediatamente gli inquirenti lo hanno sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di circa 20 dosi di cocaina pronte alla vendita più una discreta quantità di marijuana. La sostanza stupefacente ed il materiale utilizzato per il confezionamento è stato sequestrato, il 35enne invece è stato trasferito presso la casa circondariale di Salerno Forni.